Ciao, vedremo ora di eseguire insieme una sequenza di esercizi per il rinforzo globale della catena muscolare posteriore, in particolare degli estensori della schiena e dei glutei. Andremo ad appoggiarci al muro rimanendo in stazione retta con la schiena in allineamento a partire dal coccige fino al tratto cervicale e solleveremo alternativamente la gamba destra e la gamba sinistra rimanendo in quella posizione fissa per circa tre respirazioni. Lo faremo in maniera alternata e andremo a terminare l'esercizio con una flessione del busto a terra verso il basso con l'appoggio del sacro e del coccige al muro. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!